Vediamo nome Così magari ripeto a fiorci tanto Ma continuano a scuoterci? Si si continuiamo Oh sono 60 Avevi detto che a 60 smettevi? L'ho detto anche a 45 Ah vai a decina tu Quindi ora se ne parlo a 70 Se ci arrivi C'è chi dice che 60 anni è veramente una età di merda Perché alla fine non stai né da una parte né dall'altra Ci sono altri che si stanno Ma continuano a scuoterci? Ma continuano a scuoterci? Ma continuano a scuoterci Ma continuano a scuoterci? Grazie.